Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di giovedì che vedrà sia ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, ma cominciano ad avvicinarsi al nostro paese questi sistemi nuvolosi atlantici associati a un profondo centro di bassa pressione presente appunto sul nord atlantico. Controliamo la nuvolosità tesa sull'Italia con ampie zone di sereno ma qualche nuvola comincia ad affacciarsi sulle regioni settentrionali a partire dal nord ovest dove a fine giornata arriveranno anche le prime gocce d'acqua. In effetti guardiamo la previsione delle precipitazioni sull'Italia per gran parte del giorno e rimangono ancora lontane dal nostro paese. Proprio piano piano avanzano verso est quindi come vi dicevo a fine giornata prime gocce di pioggia sulle Alpi occidentali. Quindi in definitiva ci attendono giovedì ancora l'insegna del sole in tutta Italia, alla fine del giorno tempi in peggioramento all'estremo nord ovest e poi vi anticipo venerdì arriveranno piogge più diffuse al nord, ne abbiamo anche bisogno. Come temperature e valori molto miti massime localmente ancora oltre i 25 gradi. Per sapere comunque cosa accadrà appunto anche nelle giornate successive consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.